Ho tolto la fascia in pile, forse era anche ora, fuori oggi saranno 25 gradi, è una giornata stupenda e mi trovo proprio all'inizio della selva di Castelfidardo. Ma non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, perché quando tutto va storto, correre o comunque fare attività fisica è la soluzione? Perché? Perché ci sono delle cose nella vita che ci capitano, noi ci siamo in mezzo, quindi ci creano delle difficoltà, ma noi c'entriamo un po' con nulla e quindi sono indipendenti dalla nostra volontà. E quindi fare attività fisica o comunque prendere mezz'ora di quella giornata, tra parentesi, storta per non dire altre cose, per fare qualcosa invece di buono per noi stessi è numero uno la prima cosa che invece dipende dalla nostra responsabilità. Quindi è una cosa che noi decidiamo e quindi se la facciamo dipende da noi, se non usciamo di casa dipende sempre da noi, al contrario di quello che invece magari può essere successo a lavoro o nelle relazioni umane o in altre situazioni che purtroppo sono diventate negative. E quindi per questo motivo, ad esempio oggi, io a Luna ho deciso di uscire di casa, di andare a correre, di fare, di saltare la corda, di fare qualche squat e ho detto ok, la giornata è partita male, probabilmente finirà male, ma ho la possibilità di cambiarla magari per un'ora, per due ore o chissà, magari invece tornando a casa scopro che ho cambiato definitivamente il mood della giornata. E quindi ecco, questa è la mia soluzione, quando qualcosa va storto, work out!